ah ha visto i mortaggi tu aiuto aiuto oh la con me oh hai rotto le palle mollalo ma fa un culo ancora ah ma sei tosso ah non capisci ah ma allora non capisci oh che cazzo devo fa' e bambam culo ho detto in pari ecco mi sono tutto il macelle aiuto allora a me quelli che del cazzo mi altamente aspetta eh allora questo sempre qua sta ma che cazzo ma io mi servo un'arma aspetta che moce mamma mia che ho preso dov'è ah oh pini porca troia però eh eh ma quello che è oh che mi chiude il ciole che cazzo ne so che c'è sei tu aspetta ti ah no eh no aiuto aiuto ma come ma io ho aperto la la porta vabbè intanto mi prendo la mappa ecco ah vabbè dai un spray grazie ma quello che hai fatto è una passata del ciole vabbè ma dai ma cazzo ma io ho aperto la porta ah ah c'è stai mi tu ma sei uno stronzo ah ancora ma insomma ma mi puoi lasciare in pace ma cosa puoi aiuta ma perché sei incastrata sta stronza un attimo non ci vedo più no ahhh ah ah ce la ha con me ma quanto cazzo del shift c'ha sto cristiano scusa fammi capire 24 chi è beccate questa fa zigg e zag va Ale vattene non c'è più niente no mino io ecco Grazie.